Cosa ci insegna questa settimana di meeting sul tema dell'amicizia? Ci insegna che di fronte a tanti problemi imponenti come la transizione ecologica, l'immigrazione, la vita sociale spesso molto fragmentata, è possibile trovare insieme delle strade non facendo le differenze con cose di divisivo ma di un arricchimento reciproco. Abbiamo avuto tanti dialoghi su questi e tanti altri temi che dimostrano che pur nella diversità degli approcci è possibile lavorare insieme. Si chiude il meeting 2023, si pensa già al 2024, quando sarà, quale sarà il titolo e perché la scelta? Il meeting sarà l'anno prossimo, sempre dal 20 al 25, evidentemente le giornate saranno diverse, sempre qua nei padiglioni della Fiera di Rimini e il titolo dice Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo? È un titolo che vuole invitare a concentrarci su quello che conta veramente, a porre domande giuste, a far convergere le varie persone su scopi comuni, perché se ci chiedessimo di più che cosa è veramente importante in questo momento, che cosa è importante nel mondo economico, nel mondo del lavoro, e invece di partire subito da posizioni diverse, da contraposizioni, spesso molto sterili, avremo già fatto un bel passo. Penso che il titolo dell'amicizia sia una buona base, perché si tratta di cercare insieme l'essenziale. Senza amicizia ci perdiamo velocissimamente, ci lasciamo distrarre da tante cose. Infatti un tema che secondo me verrà molto affrontato l'anno prossimo sarà la grande distrazione che stiamo vivendo, non a caso si parla di infotainment, non a caso è molto difficile che le persone si concentrino più o più di 3-4 minuti su un testo importante, perché senza una certa concentrazione sull'essenziale ci perdiamo.